Buongiorno, bentornati alla seconda puntata di Informati, la trasmissione che vuole informare e spingere a informarsi. Oggi parliamo di un particolare servizio, parliamo dell'ISE, dell'indicatore della situazione economica equivalente. Lo facciamo con Pierluigi Cacqua, amministratore delegato della servizio Treviso SRL. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti voi. E poi Monica Giomo, la direttrice. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie a voi. E Giuliana Maffei, responsabile fiscale. Buongiorno. Allora, abbiamo detto l'ISE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Istituito nel 98, è stato poi rivisto l'anno scorso. Ma Pierluigi Cacqua, intanto, prima di andare ad approfondire la materia dell'ISE, che cosa, come si sta muovendo il governo per quelle società o comunque per chi offre in qualche maniera dei servizi al cittadino? Sì, beh, intanto voglio salutare tutti quelli che ci stanno seguendo, che ci seguiranno, perché il nostro spirito è uno spirito di servizio ai cittadini trevigiani, alle famiglie, ai pensionati, ai lavoratori. E quindi ricordiamo anche che i nostri telespettatori possono chiamarci, il numero che vedono in sovraimpressione, che è lo 0422 360523. No, dicevo, servizio, anche questa trasmissione, noi la viviamo così, insomma, viviamo questa trasmissione per offrirla ai cittadini, che poi speriamo ovviamente diventino nostri utenti e tentiamo di fare ovviamente del nostro meglio per rispondere a queste complicate e inconvenienze. No, la situazione è un po' delicata, perché il governo, nell'ultimo decreto che ha fatto, di fatto ha tagliato a tutti i CAF italiani, e sono tanti, circa il 22% del, non tanto del contributo, perché non è un contributo, del pagamento per fare i 7,30 e le altre cose che facciamo. Se questo dovesse essere confermato, se non viene modificato per tutti i CAF italiani, è una situazione pesantissima che ci mette in ginocchio, ci mette in ginocchio mettendo a rischio dipendenti, mettendo a rischio insomma tutta una serie di cose, lo stesso servizio che facciamo ai cittadini. Questo è un appello che faccio, spero davvero che modificino questo stato di cose. Ecco, vorrei tornare un momento alla puntata della volta scorsa, in cui un telespettatore ha chiamato e ha detto, beh ma io vado in un patronato che mi fa compilare 7,30 con un costo minore, qual è la differenza? Esiste una differenza intanto? Uno può fare da 6,7,30 o farselo fare da un amico, poi deve per forza rivolgersi al CAF, in quel caso si chiama precompilato, cioè un compilato, quello non paga comunque nulla quando lo porta a noi, e per quel 7,30 precompilato che il CAF fa un lavoro di verifica, mette un timbro di conformità, quindi deve fare, e poi lo invia telematicamente al Ministero, per quel 7,30 lo Stato ci paga, ci dà un contributo bassissimo, che ovviamente a risico paga, voglio dire, le spese, ma quello è un precompilato. Per gli altri, che facciamo noi, lo Stato ci paga lo stesso per l'invio telematico e per le verifiche che facciamo. La parte invece di compilazione, ovviamente, quella la paga l'utente. L'utente paga, ovviamente da noi, 30 euro, perché gli compiliamo il 7,30. Ma c'è diversità, perché come in tutto il mondo, voglio dire, c'è poi di tutto, c'è chi si presta a soluzioni, voglio dire, non corrette, c'è chi non si assume i rischi o se sbaglia, c'è chi ha dipendenti non regolarmente pagati. Noi, ho già detto, abbiamo 45 dipendenti fissi, pagati regolarmente col contratto del commercio, più 150 ragazzi e ragazze che formiamo, perché fanno un lungo percorso di formazione, e che assumiamo quando c'è la campagna. Quindi tu capisci, una struttura che vuole essere regolare, che vuole, come dire, rispondere, deve avere dei costi di gestione, e quindi ha dei costi. Nonostante questo, noi abbiamo calmierato il mercato, perché comunque il mercato libero, per fare un 7,30 di una persona che non è in grado di farselo da solo, avrebbe costato molto di più. Quindi abbiamo spiegato, non c'è nulla di nascosto, non c'è nessuna truppa, per così dire, o anzi, è tutto alla luce del sole, ci sono dei costi. Anzi, noi lamentiamo che ci pagano poco, cioè per il lavoro che facciamo, siamo dallo Stato pagati poco, e pagati anche con qualche anno di ritardo, e quindi dobbiamo ogni anno fare un fido in banca, e anticipare, e anticipare, lavorare con lo Stato, non è che sia conveniente, soprattutto per chi lavora bene, insomma. Va bene. Allora, per introdurre anzi questa materia, cioè l'ISE, farei una piccola viaggio nella cosiddetta rassegna stampa. Cioè, quali casi sono emersi, per esempio, sulla stampa locale? Prendiamo degli articoli che sono apparsi sulla tribuna. Allora, mensa, lotta ai furbetti, stangata sui buoni pasto e tariffe agevolate nelle mense cumulani alle scuole elementari. L'introduzione dell'ISE, indicatore della situazione economica equivalente, per certificare la vera situazione economica della famiglia, avvenuta nell'ultimo anno scolastico, ha ridotto da 918 a 514 i beneficiari del pasto. E questo è un articolo apparso sulla tribuna il 10 settembre 2011. Poi ancora, libri scolastici, contributi dalla regione, sempre anche qui si parla di parametri ISE, servizio del trasporto per gli anziani, un servizio di trasporto molto economico per gli anziani, che devono recarsi negli ospedali di Motte e di Oderzo. Qua siamo nel comune di Villorba, e ne può usufruire chi ha un'ISE fino a 7500 euro, ai 10 euro, perché ha un indicatore superiore ai 15400 euro. Questo è il costo. Buoni mensa, stangata per le famiglie, casiera, scatta sorpresa, l'aumento del 20% alle scuole elementari e medie. Allora, che cosa ci dicono questi intanto articoli? Che l'ISE è sicuramente un indicatore importante. Perché? Ma l'ISE è sicuramente uno strumento che ormai dal lontano 1998, anno in cui è stato istituito, è uno strumento di equità sociale, e quindi sostanzialmente è una dichiarazione che viene redatta proprio per ottenere dei contributi o dei benefici che possono essere nazionali, piuttosto che anche regionali, oppure addirittura comunali. E' chiaro che l'ISE, essendo proprio una dichiarazione, la si deve compilare in maniera, diciamo, da poter rispettare quelli che sono proprio i principi di equità. E quindi vanno dichiarati sostanzialmente in questa dichiarazione i redditi, i patrimoni, di tutti i componenti in nucleo familiare. Poi Giuliana in dettaglio andrà a spiegare. E' chiaro che c'è una sorta di responsabilità perché dobbiamo ricordarci che le sanzioni che vengono in qualche modo commisurate dall'amministrazione o comunque dagli enti preposti sono sanzioni amministrative e penali. Quindi diciamo che la dichiarazione consente sì di ottenere dei benefici, ma proprio perché è uno strumento di equità bisogna giustamente anche compilarla in maniera verità. E' facile in qualche maniera dare un, cioè certificare, mettendo dei dati falsi. Ma sì, è molto facile perché poiché proprio si chiama è un'autocertificazione a tutti gli effetti io posso dichiarare tranquillamente un reddito piuttosto che ometterlo in dichiarazione. E' chiaro che proprio in virtù dei controlli che vengono effettuati è preferibile non andare incontro a questo tipo di cosa proprio perché le sanzioni sono molto pesanti quelle che vengono commisurate quindi giustamente. Poi non sarebbe nemmeno giusto. No, infatti perché persone... Dire che si è poveri per avere un servizio quando non lo si è è una vergogna inaudita. Però diciamo che non sarebbe nel primo forse neanche l'ultimo caso di chi... No, 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 no. Purtroppo no. Infatti persone che magari si trovano in una situazione di disagio poi si trovano magari a non poter beneficiare o non beneficiare dei contributi proprio perché ci sono di converso altre persone invece che vanno a dichiarare cose non veritiere. Allora, vediamo quali sono le scadenze per esempio dell'ISE che ci aspettano perché so che appunto per chi vuole fare, compilare questa dichiarazione ci sono delle scadenze ovviamente da rispettare. Sì, diciamo che l'ISE è un appunto come dicevamo una dichiarazione che può essere elaborata in qualsiasi momento dell'anno ha una validità di 12 mesi da quando la si predispone. Ricordo importante che è un servizio gratuito quindi qualsiasi persona che si rivolge presso una delle nostre sedi CAF comunque può ricevere la compilazione gratuitamente senza pagare assolutamente nulla. Tra le scadenze diciamo proprio perché parliamo di contributi regionali piuttosto che comunali ma qui proprio domani scade ad esempio un contributo relativo alla scuola che è appunto il Buono Libri che scade il 20 di ottobre. Poi a fine mese invece abbiamo sempre un contributo legato alla scuola che è appunto il Buono Scuola e poi ci sono varie scadenze naturalmente in questo periodo proprio scolastico diciamo di avvio magari i contributi più interessati sono quelli dell'università e quindi a seconda dell'università che uno frequenta bisogna interessarsi per logicamente fare entro quella scadenza la richiesta per ottenere magari la riduzione delle tasse piuttosto che il trasporto o altro insomma quindi le scadenze sono molto varie nell'ISE bisogna sempre tenersi un po' aggiornati. Come si coordina poi il comune quelle che sono per esempio le agevolazioni rispetto ai servizi comunali con appunto questa dichiarazione? Sì diciamo che noi qui in provincia di Treviso abbiamo fatto un grande lavoro perché ancora nel 1993 i CAF proprio per dare un servizio migliore ai lavoratori, ai pensionati insomma alle persone che richiedono questi contributi abbiamo costituito un coordinamento dei CAF della provincia di Treviso e in collaborazione con l'associazione comuni della marca trevigiana abbiamo fatto in modo di redigere una convenzione che ci permette di dare un servizio più veloce e rapido ai cittadini a seconda di dove il cittadino risiede in quale comune lui sa che rivolgendosi presso uno dei CAF che appunto hanno aderito a questo schema di convenzione può ricevere il servizio gratuito per la compilazione dell'ISE e ottenere anche la predisposizione se il comune appunto ha dato in convenzione diciamo il servizio la domanda direttamente per accedere al contributo quindi diciamo che l'attività che è stata fatta permette al cittadino di passare una volta sola presso il CAF convenzionato e fare tutto poi sarà il CAF che a sua volta nei confronti del comune piuttosto che della regione o di un altro ente provvede ad inoltrargli la domanda quindi si possono avere delle riduzioni anche per esempio per alcuni beni di prima necessità tipo che ne so l'acqua Sì, ecco sempre parlando di cose pratiche che sono state fatte qui in provincia di Treviso è diciamo importante ricordare come anche le organizzazioni sindacali in questo caso anche la CGL stessa ha lavorato proprio per poter dare ai cittadini delle ulteriori agevolazioni quali ad esempio l'acqua proprio lo sconto con l'ato e anche con Ascotrade e quindi lo sconto materialmente la persona lo vede poi nella bolletta sia dell'acqua che del gas quindi diciamo che il lavoro fatto nel territorio poi si traduce effettivamente in un beneficio per i cittadini quindi molto importante le persone che hanno un reddito basso e che vogliono avere delle riduzioni sul pagamento dell'acqua e del gas si rivolgono al CAF CGL noi gli facciamo la documentazione perché loro abbiano questi sconti va bene è bene ribadito allora Giuliana Maffei esistono tante voci di spesa all'interno di una famiglia che possono andare dal telefono all'affitto vediamo una slide che è stata preparata dai nostri registi vediamo se per caso riusciamo a andarli ecco adesso la vediamo allora per esempio la Telecom chi ne ha diritto del contributo i nuclei con almeno un precettore di pensione di invalidità civile pensione sociale o un anziano con età superiore ai 75 anni o abbia un capofamiglia disoccupato ecco prova a commentarci tu un po' le voci di spesa e appunto chi ne ha diritto praticamente tutti quei contribuenti che rientrano in questa tipologia evidenziata nella slide cioè precettori di pensione e invalidità civile che abbiano un'ISE uguale o superiore ai 6713, la 93 euro possono quando hanno appunto elaborato il calcolo dell'ISE e si ritrovano dentro a questo parametro chiedere una riduzione del 50% del canone mensile della Telecom per cui vengono presso i nostri uffici gli elaboriamo l'ISE e dopo provvediamo noi a inoltrare la documentazione necessaria a mezzo fax alla Telecom bonus energia lo stesso vale per sì, allora il bonus energia e il bonus gas sono delle agevolazioni nazionali per cui sono uguali in tutto il territorio nazionale sono delle agevolazioni che si possono usufruire direttamente nella bolletta dell'energia oppure nella bolletta del gas per quanto riguarda il bonus energia varia appunto come specificato là dai 60 euro ai 135 a seconda della composizione del nucleo familiare per quanto riguarda invece il bonus gas dipende sempre da quanti sono i componenti del nucleo familiare e poi anche dalle zone climatiche le zone climatiche vanno dalla A alla F ad esempio noi a seconda ovviamente della necessità di riscaldarsi più o meno noi ad esempio qua a Treviso siamo in zona E quindi abbiamo una buona necessità di... cioè si va... sì, c'è... cioè l'A è il minore come procede? sì, l'A ad esempio la Sicilia l'A siamo noi e la F sarà Trentino le zone di alta montagna perché hanno un rispendio... quindi ci posizioniamo su un livello di un territorio abbastanza freddo sì, sì per cui l'agevolazione è anche più alta gas si aggiunge all'accordo provinciale sì, l'accordo provinciale si aggiunge a questo la scontrata è uno sconto questo è un contributo perché non vanno in contrasto sono due cose nettamente diverse quindi si possono accumulare sì, sì, sì perché hanno... cioè delle... vi faccio una domanda questi valori ISEE secondo... non so se si possa dare una valutazione però mi sembra un po' bassini esatto però sì sono molto bassi però l'ISEE allora l'ISEE che è indicatore situazione economica è la fotografia della situazione reddituale del nucleo però questa fotografia questa valutazione economica varia dal numero di componenti il nucleo familiare e da alcune situazioni particolari per cui se io ho un ISEE con una E sola di 15.000 euro 30.000 euro e sono unico componente il mio valore viene diviso per uno per uno se siamo in tre o quattro componenti è variabile può essere diviso per 2,04 2,57 a questo poi subentrano delle maggiorazioni sempre sul valore sul coefficiente di equivalenza che possono essere ad esempio se all'interno del nucleo familiare c'è un componente con una invalidità uguale o superiore al 66% questo coefficiente ad esempio nel caso di tre componenti invece di 2,04 è 2,54 quindi praticamente più figli ho più ovviamente riceverò di contributo di solito queste sono famiglie con diversi figli con diversi figli quindi famiglie numerose insomma sì va bene continuiamo allora a vedere l'assegno per esempio per maternità sì l'assegno per maternità allora anche questo è un contributo a livello nazionale e viene dato a tutte quelle mamme che non lavorano o hanno un lavoro ridotto a tempo parziale ma molto ridotto per come si dice aiutarle nelle spese che subentrano al momento della maternità questa domanda proprio oggi sul Corriere della Sera c'era un articolo che diceva che lo sviluppo del nostro paese forse si avrà solo quando si faranno più figli e tutte le donne lavoreranno eh sì chissà perché ci devono essere più aiuti perché ci devono essere più aiuti non ho capito se vogliono lavorare farle lavorare anche quando stanno partorendo c'è via capire questo bisogna capire in effetti bisogna capire qual è la chiave no no l'idea è giusta ma ci vogliono ovviamente servizi e la struttura che regge voglio dire questa regoliamoci andiamo avanti ok l'assegno maternità quindi diceva un aiuto alle mamme che non lavorano e possono richiederlo tutti quanti tutte le mamme anche le extra comunitarie a condizione che abbiano la carta di soggiorno ok la domanda va fatta entro i sei mesi dalla nascita del bambino del bambino per questa per questo tipo di agevolazione noi abbiamo delle convenzioni con alcuni comuni sì mentre per per esempio adesso vuole sapere dei comuni sì quali comuni possono essere più o meno sempre della provincia viene in mente Santa Lucia di Piave Santa Lucia di Piave quindi chi abita Santa Lucia di Piave può viene da noi noi ho in base a che cosa ovviamente perché il comune decide se aderire o meno quindi anche un appello ai comuni di aiutare in qualche maniera queste mamme pensate alle mamme che lavorano penso che sia anche dovuto al quanto personale ha per poter elaborare queste domande ai fondi e ai fondi quindi ovviamente anche i costi di gestione adesso sappiamo che con i tagli che ci sono stati anche ai venti locali questo diventa ovviamente a ricaduta quando si dice i tagli agli enti locali vanno a incidere sui servizi questo significa i comuni non hanno i soldi per poter accedere a determinate strutture che danno dei servizi è anche questo allora cambiamo la prossima trasmissione potremmo dare l'elego di tutti i comuni potremmo dare di tutti i comuni certo va bene cambiamo allora la schermata perché c'è un'altra grafica sempre elaborata dalla nostra regia e adesso vediamo l'affitto per esempio sì l'affitto altra voce di spesa importante per tanti giovani per tante persone che anche non possono acquistare casa no allora l'affitto è un bando definito annualmente dalla regione veneto sarebbe un fondo sociale per gli affitti quest'anno il bando si è chiuso a fine maggio e il limite ISEE era di 14.000 euro il limite massimo fra virgolette perché poi è difficile che prendano questi importi del contributo era di 2200 euro sì ciascuno poi dipende sempre da quanti soldi vengono stanziati da quanti richiedenti ci sono per cui è modulabile in base e qui il valore dell'ISEE è di 14.000 euro indipendentemente dal numero io vorrei dire non è un l'ISEE ha un calcolo particolare perché non è come sì per cui io qua ci sono certi parametri certi valori che sono fissi altri sono soggetto di calcoli particolari e a tal proposito vorrei dire che proprio in merito di quello che ho appena detto tante volte i cittadini si auto escludono da fare certe richieste perché fanno dei calcoli approssimativi quello che noi consigliamo sempre è di passare dai nostri uffici e provare almeno una volta a fare il calcolo dell'ISEE perché non è un mero calcolo perché magari si rientriamo in alcune categorie non sappiamo di rientrarci e alcune voci insomma alcuni contributi potrebbero arrivare sì infatti in virtù anche di quello che dicevo prima è una somma di redditi ma poi subentrano una serie di fattori che è la composizione del nucleo poi ad esempio ci sono delle franchigie su quel che può essere il patrimonio mobiliare sul patrimonio mobiliare le giovani coppie mi viene in mente cioè chi è in affitto ed è giovane ha un contributo allora l'ISEE qua è abbastanza basso per una giovane coppia perché dovrebbe essere un monoreddito di solito se sono nuclei ridotti deve essere monoreddito quindi se sono i due che lavorano e sono giovani se invece sono due che lavorano e hanno che ne so due figli e là bisogna vedere anche il tipo di reddito se hanno dei conti correnti bocci ct tutte quelle cose là è difficile cioè è difficile identificare no ma è giusto fare degli esempi per dire le situazioni sono diverse cerchiamo di fare questo calcolo allora secondo me uno che lavora con due figli qualche agevolazione ce l'ha sicuramente ce l'ha quindi attenzione allora andiamo avanti social card la famosissima social card che è arrivata nelle case di tutti i pensionati e che poi non si sa più che fine abbia fatto allora la social beh per la social card noi lavoriamo solo il modello ISEE per cui tutto quello che compete è stato un grasso boom all'inizio tutti volevano fare questa richiesta però poi chi ha usufruito dell'agevolazione sono ben pochi quindi è un fallimento questa social card potrei dire anche di scelta se ve lo chiedo poi magari ma noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti non lo diciamo dopo se andate a guardare quello che la CGL il sottoscritto lo SPI CGL ha detto quando hanno fatto questa cosa abbiamo detto che era una stupidata era una stupidata primo perché qualcuno ci ha fatto la spesa sì ma certo che qualcuno ma adesso per dirti adesso stanno chiedendo la restituzione di una serie di soldi perché sembra che molte persone non ne avessero diritto perché c'è sempre la complicanza di qualcuno la richiesta gliel'hanno data i numeri che davano che arrivavano alle poste sembravano tantissimi noi dicevamo guardate che non sono tante ma perché hanno fatto la carta dei poveri e non hanno seguito la strada che aveva fatto il governo Prodi non per fare pubblicità ma perché è giusto dirlo che aveva fatto la famosa 14esima e ognuno ha proprio cioè la propria idea le proprie strategie valuta che magari una strategia di un governo rispetto ad un'altra cioè magari ci sono persone che effettivamente hanno usufruito della social car sì ma hai fatto discriminazioni e hai dato un'etichetta di povero a chi ha della dignità cioè sono delle persone che non hanno voluto la social car io la dignità viene ancora prima della ricchezza e della povertà chiaro allora io dico se devi dare qualcosa e noi lo rivendichiamo che bisogna dare a chi non arriva fino a mese a chi ha pensioni da fame bisogna dare ma bisogna dare con dignità e dare anche garantendo nel tempo questa cosa la quattordicesima famosa che era stata data a pensioni basse doveva essere continuata il governo poteva far meglio di Prodi ma doveva continuare una strada per cui io davo qualcosa a chi ha poco ma glielo davo garantendo la dignità e la continuità non è così va bene allora continuiamo con le voci di spesa buono scuola sì buono scuola è sempre che non vediamo nella grafica semplicemente perché non abbiamo dei chiari riferimenti sul chi ne ha diritto il valore ISE i contributi però c'è tra le voci sì no allora il buono scuola è sempre un contributo a livello regionale e è per aiutare quelle famiglie che sostengono delle iscrizioni rette di frequenza qua è difficile definire perché ci sono diverse fasce e qua ci sono anche delle agevolazioni particolari per bambini disabili che sostengono delle spese per appunto l'insegnante di sostegno in ambito scolastico e ci sono diverse fasce per cui è difficile adesso star qua a definirle anche per questo caso direi di passare ai nostri uffici per verificare se vi sono i requisiti o no comunque la scadenza è il 3 dell'11 per quel che riguarda il buono scuola purtroppo inizialmente il bando regionale aveva richiesto un ise con i redditi 2009 e solo in corso d'opera al 27 del 9 o ai primi addirittura di ottobre è stato richiesto per richiedere questa agevolazione che l'ise fosse con i redditi 2010 perché effettivamente io non posso elaborare un ise con dei redditi diversi da quelli in corso in quelli in corso volevo chiedere una cosa per Luigi Cacco leggiamo questo articolo della tribuna che dice buoni mensa stangata per le famiglie casier scatta sorpresa l'aumento del 20% alle scuole elementari e medie stangata appunto sui buoni mensa proprio perché stiamo parlando di questo tipo di agevolazione perché sono tutti i genitori su piedi di guerra e questi buoni track a un certo punto sono lievitati il costo di questi buoni è lievitato io penso che sia sotto gli occhi di tutti che i tagli che le manovre del governo hanno fatto e che purtroppo faranno ancora stanno mettendo i comuni in una situazione di grandissimo disagio non c'è solo un problema di buoni pasto pensa a una coppia che ha un figlio e che deve mandare il suo figlio alla scuola materna nell'asilo pensa quanto deve pagare cioè una volta parlavamo dei servizi è sempre peggio e questa è insomma una delle questioni che è pesantissima su cui noi battagliamo le famiglie sono sotto pressione da tutte le parti non solo i figli sono precari ma i servizi non ci sono sono sempre meno parliamo di federalismo magari venga un federalismo vero un federalismo in cui l'ente locale non piccolo ma anche aggregato possa gestire le sue risorse così il governo scarica sul territorio e la politica è lì che tergiversa senza dare ai cittadini voglio dire quella sicurezza che sarebbe oggi necessaria nella situazione di crisi quindi i buoni pasti stanno dentro in questo purtroppo la battaglia continua l'esenzione ticket farmaci torniamo un momento alle nostre esenzioni alle nostre al nostro ISE eccolo qua sì l'esenzione dei ticket farmaceutici diciamo che è la più gettonata in questo momento nei nostri uffici perché appunto è dal primo di ottobre che è possibile fare rinnovi per questo tipo di agevolazione oppure per fare le domande nuove c'era stato un attimo di pausa con quel che riguarda l'esenzione ticket e le persone che possono avere questo tipo di agevolazione sono quei cittadini che hanno un ISE uguale o inferiore ai 12.000 euro e praticamente consiste nel non pagare i 2 euro che si hanno sulle ricette rosse sulle ricette velocemente vediamo gli assegni di cura perché siamo in chiusura beh l'assegno di cura noi per questo facciamo solo l'ISE poi è a cura siccome è una cosa molto particolare è a cura dell'assistente sociale o da chi è preposto provvedere a fare la domanda i limiti sono di 15.738,28 e questo è un aiuto a quelle famiglie che assistono in famiglia invece di metterle in un istituto delle persone non autosufficienti Monica è una battuta in chiusura sì ricordo a tutti di passare presso i nostri uffici per fare l'ISE perché comunque in ogni caso il servizio è gratuito e è possibile comunque ottenere delle agevolazioni che comunque insomma sono soldi che fanno comodo in questa situazione di difficoltà allora io ringrazio davvero per Luigi Cacco amministratore delegato della servizio Treviso SRL per essere stato con noi grazie grazie a Monica Giomo direttrice grazie a Giuliana Maffei responsabile fiscale grazie informati informati finisce qui vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo grazie a tutti 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 grazie a tutti